Nel 2013 avevamo una percentuale di 14,5% di straniere sul totale della popolazione. Lì se guardiamo nel dettaglio com'è composta questa componente straniera, si può dire che la maggior parte sono albanesi, poi seguiti dal Marocco, dal Pakistan e poi subito da paesi dell'est, dalla Moldavia, dalla Romania, dall'Ucraina e anche dal Peru. E dalla Cina. Quindi sono questi settori nei servizi sanitari o sociali, piuttosto che nel servizio alberiero, dove arrivano più donne che uomini a lavorare da noi. Qual è il trend di Bolzano? In aumento la popolazione? La popolazione in aumento, abbiamo rispetto al 2012 un netto aumento di 1800 persone circa. Bisogna dire che lì la grande componente è costituita da persone che vengono iscritte nei registri anagrafici perché sono più decessi che nascite e quindi lì il saldo naturale è negativo e se non ci fossero le immigrazioni la popolazione non potrebbe ammettare. Grazie. Grazie.